Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È recentemente intervenuto il nuovo premier polacco Donald Tusk, il quale ha detto, così leggo su Repubblica Rotocalco Turbo Atlantista, il quale ha detto, dicevo, che una guerra in Europa è possibile e ha altresì precisato che l'Europa tuttavia non è pronta. Insomma, la Polonia, che come sappiamo è la testa d'ariete dell'atlantismo, è di fatto il paese più russofobico e più saldamente atlantista, fa sapere che la guerra in Europa è a tutti gli effetti possibile e dice anche che l'Europa non è preparata. Insomma, la situazione sembra degenerare di giorno in giorno e i venti di guerra soffiano sempre più impetuosi nel vecchio continente. Non passi inosservato il fatto che, come ricordavo, la Polonia è animata da una idiosincrasia storica verso la Russia e ora si sta armando fino ai denti, per usare una formula ancora ampiamente perifrastica ed eufemistica. Dunque, la domanda che dobbiamo porre urgentemente è la seguente. Si va davvero verso la guerra? Siamo destinati a entrare in guerra con la Russia? Sembrerebbe di sì, considerato il fatto che l'Europa da subito ha scelto la via peggiore, quella della guerra, supportando l'Ucraina con armi e con fondi. Meglio avrebbe fatto a mantenere una posizione di neutralità propiziando il dialogo e i negoziati, ma lo sappiamo, l'Europa esiste soltanto come espressione geografica, da che di fatto è, sì che Simpliciter, una colonia al traino della civiltà dell'hamburger e del suo imperialismo, nonché della sua libido dominandi, che vuole a tutti i costi entrare in guerra con la Russia per piegare la Russia e ridurla a una colonia di Washington.